Siete in collegamento con lo stadio Alberto Vinto di Caserta Oggi domenica 25 marzo Domenica delle palme si gioca Casertana Lecce Cosenza ma il pallone per il capitano Lepore Di prima a cercare Saraniti Pallone profondo a prova Di prima Turchetta Ancora lui Cross sul secondo palo Blocca Peruchini C'è Luca Turchetta si ferma all'indietro per Romano Lateralmente per Meola Cross in mezzo di Meola sul secondo palo C'è il colpo di testa ad allontanare di Matteo Cosenza di testa Lepore arriva Tabanelli Mette per la terra d'Anna Prova a lanciare Turchetta Pallone arriva Salta Lepore Ancora Turchetta In aria Turchetta si accentra Turchetta Pallone allontanato Pallone allontanato Arrigoni per Marco Mancosu Che prova la conclusione dalla distanza Tiro alto Pallone per Marco Mancosu A cercare Tabanelli in aria C'è la conclusione C'è la conclusione al volo Saraniti in profondità per Di Piazza Di Piazza A Tuperto Conforte Di Piazza Ottimo Ottimo Lorenzini Meola contro Un Claudicante Del signor Volpi Termina la gara Casettana Lecce La Casettana Vince per 1 a 0 Dio Grazie a tutti.